La festa della Shura, giorno in cui l'Iran ricorda il martirio di Hussein, il terzo imam sciita avvenuto a Kerbala nel 680 d.C. diventa l'occasione per tornare a far sentire la voce dell'opposizione contro quello che chiamano il dittatore, il presidente Mahmoud Ahmadinejad. Scontri tra manifestanti, antigovernativi e forze dell'ordine e spari sulla folla che la polizia smentisce. Vittime sospette si affanano a ripetere, ma non certo vittime della polizia, che nega addirittura di aver armato le milizie schierate nella capitale e spiega che due persone sarebbero morte in un incidente stradale, un altro uomo sarebbe caduto da un ponte e un quarto sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola esploso da sconosciuti. Ma più tardi è la stessa TV di Stato ad ammettere numerosi morti, tra cui ci sarebbe anche il nipote del leader dell'opposizione, Mirossein Moussavé. E la notte non restituisce affatto la calma. Il tantan della controinformazione aveva annunciato per la serata nuovi raduni e nuovi scontri. E così è stato. Le due importanti piazze della capitale iraniana, Asadi e Dengelab, assistono al lancio di lacrimogeni da parte della polizia, dopo che già per un'intera giornata il centro di Teheran era diventato un terreno di scontro tra le forze dell'ordine e molti oppositori del presidente Ahmadinejad, che urlavano morte al dittatore. Nel mondo arriva poco di quelle immagini, se non quelle rubate che navigano in rete, ma dal mondo arriva la condanna della repressione, prima di tutto quella della Casa Bianca, che si schiera dalla parte di chi pacificamente cerca il rispetto dei diritti civili, e poi quella del governo italiano, per il quale la salvaguardia della vita umana costituisce un valore fondamentale che va difeso ovunque e in qualsiasi circostanza. Tonia Cartolano, Sky TG24